Come si vede la borsa è quasi pronta e poi posso andare al mare, ma mi prendo tre minuti per raccontarvi qualcosa per una nuova puntata del Disse Estivo, Disse d'Estate, una sorta di digestivo in cui le parole incrociano il passato e il nostro presente. Oggi parliamo di sapienza. Saremo rimasti in pochi, ma affrontiamo l'argomento senza demordere. Quando si pensa alla sofia, alla sapienza, alla saggezza, la si vede sempre in un'ottica positiva e si pensa ai greci quasi con gratitudine perché hanno valorizzato la conoscenza. I greci ci hanno insegnato a mettere a frutto la ragione. Ecco, in tutt'altra direzione viene rivolta invece la frase di Euripide il sapere non è sapienza, che sulle prime ci sembra un enigma, tutto da interpretare, ma il senso è questo. Il sapere dell'uomo e la ragione non rappresentano la vera sapienza. Che cos'è dunque la sofia? In che cosa consiste la sapienza? Ora partiamo col dire che la frase è pronunciata dal coro delle baccanti di Euripide, la tragedia incentrata sull'opposizione tra ragione e razionalità. I venti dell'irrazionale soffiano a Tebe perché sono stati portati da Dioniso che vi giunge per imporre il proprio culto. Dioniso, il dio che stravolge le menti dei suoi seguaci riducendogli la follia. Lì si oppone il signore di Tebe, Penteo, che cerca di porre riparo con l'unico strumento possibile, la ragione. Penteo, fra l'altro, è un nome parlante perché la sua radice è la stessa di Penzos, pena, dolore e questo lascia già intravedere il suo destino di sventura. In effetti egli alla fine soccomberà perché ha osato opporsi al dio e viene dunque punito per la sua arroganza. La sua vicenda dimostra dunque che la ragione non costituisce sempre un balluardo, una sicurezza. Nelle baccanti il banchewein, il seguire bacco nell'estasi, rappresenta invece una forma superiore di conoscenza. Eccola la sapienza legata al culto di Dioniso, che è una sapienza istintiva, non è fondata sulla ragione. Rispetto a questa forma di sapienza, l'intransigenza e l'ostinazione di Penteo nuocciano. Penteo non l'ha capito, ma Cadmo, suo nonno, sì, fin dall'inizio, quando con una soluzione di compromesso dichiara che si devono valutare le situazioni sulla base della prudenza e dell'esperienza e che ora risulta opportuno accettare l'arrivo di Dioniso per salvaguardare se stessi ed evitare di incorrere nell'ira divina. Insomma, tra il no e il sì bisogna sempre valutare bene. Faccio la borsa e vado al mare.